Il nuovo teatro Giovanni Santi di Bottega sta prendendo forma. Una volta completate fondamente tubature, in poche settimane sono stati terminati i lavori di montaggio della struttura in prefabbricato. 336 posti, circa 1.600.000 euro di investimento per un edificio innovativo e multitasking, vista la vastità di offerta che presenta. Cinema, teatro e auditorium per la musica in un unico luogo di coesione per le scuole del territorio e i cittadini della vallata del Foglia. Mi pare che siamo a buon punto, se tutto fila liscio, diciamo, entro l'estate, il periodo in cui si potrebbe inaugurare il nuovo teatro, il teatro Giovanni Santi, 336 posti, un teatro per la prima volta nella storia della vallata del Foglia, da Macerata Feltri a Pesero, non c'era un teatro, quindi sarà il teatro di questi oltre 50.000 abitanti che risiedono in 4-5 comuni qui dei dintorni con noi confinanti e sarà soprattutto rivolta ai giovani. La tempistica mi pare che verso, diciamo, fine aprile e maggio dovremmo avere i tempi per le tecnologie, per, diciamo, l'arrede interno, l'insonorizzazione, insomma, però, ecco, credo prima dell'estate dovremmo avere, diciamo, la struttura pronta per essere inaugurata. Attorno alla nuova struttura sorgerà anche una nuova area parcheggi che una volta ultimata conterà circa 50 posti auto.